Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Questa è l'ora solare e questa, me lo sentirete ripetere molte volte, questa, tutta questa, è casa vostra. È casa vostra perché questo, più che uno studio televisivo, beh, lo è a tutti gli effetti, è soprattutto una casa. Io voglio ringraziare Federica Luciani, la nostra scenografa, che ha lavorato tanto e tanto bene e voglio ringraziare il nostro regista, Alessandro Tresa. In una casa, in una casa, si ricevono gli amici, ma questa amica è, signori, è un grandissimo onore poterla avere qui. Non fa neanche dindonna alla porta, entra tra gli applausi, tra l'abbraccio di tutti, Paola Tiziana Cruciani. Grazie, grazie, ciao Paolo. E qui mi unisco anche io, e possiamo, perché si fa così a teatro, così si fa. Paola Tiziana Cruciani, attrice, non ci sono dubbi, sceneggiatrice e direi regista e maestra di sorriso, di ironia e di quel saper essere così familiare da indurre una signora a Civita di Bagno Reggio, partiamo da questo racconto, a fare un errore meraviglioso. Sì, io ero passata davanti alla sua libreria, lei pensava che io fossi una cafona perché non l'avevo salutata. Mi è venuta a cercare, mi ha trovato che mangiavo in un ristorante e mi ha detto scusi, io prima pensavo che lei non mi avesse salutato per scortezia, invece poi ho capito chi è lei e le volevo dire che lei per me fa parte del mio immaginario familiare. E io mi sono commossa, come al solito, perché mi commuovo anche davanti a Gallina in fuga, come dice mia figlia, però è stato un complimento. Una cosa bellissima, Paola Tiziana. Lei ti ha visto e ha detto ma perché non mi saluti quando in realtà tu non la conoscevi. No. Ma noi ti conosciamo tanto, tanto bene. Ti dobbiamo tanto ringraziare. Abbiamo pensato di aprire con Paola Tiziana. Dice, l'hai fatta una serenata? No, facciamo di più. Abbiamo pensato ad un nuovo gioco, è tutto nuovo, alla nuova ora solare, che è questa. Paola Tiziana Cruciani, le canzoni della mia vita. Cioè noi vogliamo raccontare attraverso un percorso di canzoni, i ricordi e la bellezza della vita. E partiamo da qui, partiamo dal waltzer della toppa, Gabriella Ferri. Io sorrido perché vedo l'aria compiaciuta di Dario Quarta, delle mie autrici, Gabriella Ferri con un testo di Pierpaolo Pasolini. Perché questa canzone ti è così cara? Beh, innanzitutto perché ha due grandi autori. Il testo di Pasolini e la musica di Piero Umiliani, grandissimo autore di musiche degli anni 60-70. E perché racconta con una delicatezza e con una poesia la storia di una prostituta? Quindi quando si riesce a raggiungere la poesia raccontando gli ultimi, gli esclusi, a me le cose rimangono particolarmente impresse. E poi la Ferri. Questa canzone rimane particolarmente impressa ad una bambina, questa, che state vedendo in fotografia. E lei, eh? E lei? Già quest'aria, così, della serie, mi sono messa anche di tre quarti. Io vedo l'aria degli occhi azzurri che non sopportano il sole, per cui sto già ingrugnata da piccola, ma solo perché mi facevo ombra con la tettoglia, perché se no non riuscivo a vedere niente. Se no non si riusciva a vedere. Poi parleremo di questa famiglia meravigliosa, papà pittore, nonno musicista, tu dici più che arte non poteva essere. L'arte si insegna anche attraverso la musica, attraverso le canzoni, quando un papà ti dice senti, senti che belle, ascolta queste parole. Sentite con noi. Questa è la canzone dell'amore perduto, lo so. Devo interromperla ed è sempre una cosa difficile, sali su De Andrè, non è giusto. Però quel tuo papà, quanto ti ha insegnato? Mi ha insegnato tanto, anche mia madre mi ha insegnato tanto, però diciamo che mi ha introdotto all'arte, perché anche lui, figlio di musicista, amava, suonava anche lui, mi ha fatto conoscere la musica, mi ha insegnato a disegnare, mi ha instillato l'amore per l'arte. L'ascoltavate insieme questa canzone? Ma questa proprio, io mi ricordo una domenica a Porta Portese, io e mio padre che camminavamo, un banco che vendeva le musicassette all'epoca, e lui che comprò quella di De Andrè dicendo ecco questo te lo devi sentire, io ero piccola, insomma piccola, giovane adolescente, avrei avuto 13 anni, una cosa del genere, quindi piccola, e mi disse questo è un cantautore, sai che sono i cantautori, e io da lì ho cominciato ad ascoltare i cantautori. E ha fatto bene ascoltare i cantautori, intanto qui vediamo questa foto, e ti ringraziamo per queste foto, perché queste sono doni che ci arrivano da te, da piccola era una ballerina, Paola Tiziana Cruciani, era una ballerina, e quindi l'arte anche lì, ritorniamo al discorso, ecco qua. Avrei dovuto essere una ballerina. Avresti voluto essere, oggi ti piaceva. Guarda all'inizio sì, perché mi piaceva moltissimo, sebbene io abbia fatto l'accademia negli anni in cui c'era ancora la Ruscaia, che era considerata proprio una despota. Sotto in piedi, certo. Poi crescendo, io sono diventata formosa. Vero da te. Eh vabbè. Scusate, qua ci vuole. Vero da pazienza. Sono diventata formosa, come se fosse un problema. Era un problema per la danza. Per la danza, sì. Perché un po' mi mettevano in fondo, perché non stavo bene con i tutù, cioè non stavo bene secondo i canoni della danza. E un po' per me era faticoso, perché io mi imbarazzavo, mi sentivo troppo esposta. Però devo agli anni in accademia il senso di disciplina, di rigore e di serietà delle arti in genere. Disciplina, rigore e serietà. Paola Tiziana Cruciani è tutto questo anche grazie ad una stella, anzi un pianeta. Ne parleremo tra poco dopo la pubblicità, però prima, visto che parliamo di canzoni della vita, vi facciamo sentire per un attimo. la sua voce. Ci vediamo tra poco con Gigi Frodetti. L'ora solare, la nuova ora solare con Paola Tiziana Cruciani, maestra del sorriso a teatro, al cinema, in televisione, nella vita. Stiamo ripercorrendo attraverso la musica la vita e le scelte di una donna adorabile, di una persona bella, seria, capace di fare il proprio lavoro, esattamente come quel lavoro va fatto. Va bene. Lo riascoltiamo, Gigi Frodetti, scusate il balbettio, ma ci siamo messi a piangere prima ed è giusto così. Lo riascoltiamo perché nella canzone della vita di Paola Tiziana Cruciani c'è il suo maestro. Noi è da retta Roma, che t'hanno coionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato, e qui interromperlo è altrettanto difficile Paola perché lui è te e tu sei lui e il vostro lavoro, questa fotografia meravigliosa, il vostro lavoro insieme, la grandezza di quest'uomo. Grazie, grazie mille, grazie mille. Questa foto è apparsa per caso, pubblicata su Instagram, non da me, perché fa parte di un archivio, questo archivio Cardone, e l'hanno pubblicata. Io non sapevo nemmeno, boh, non so quando ce l'hanno fatta, così a occhio capisco che erano proprio gli anni del laboratorio, quindi fra l'80 e l'82. A questo laboratorio Paola Tiziana Cruciani arriva in un modo che se poi lo vedi in un film dici ma dai, l'hanno proprio fatta apposta la cosa. No, voi ve lo ricordate l'indimenticabile, a me gli occhi, please, fortunato che era a teatro, fortunato che l'ha visto, c'era pure questa ragazzina a teatro. Era il 76, era l'anno del mio diploma, io ancora non capivo bene che cosa volevo fare, sì mi piaceva il teatro però, insomma, però mi piaceva l'arte quindi forse volevo fare il restauro. Andai a vedere proietti al teatro Tenda e poi scrissi sulla mia agenda diario, quel giorno, attaccai il biglietto come si faceva e scrissi, ho deciso, da grande voglio fare l'attrice. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo per tutti noi, hai fatto benissimo. Ma immaginavi che ti saresti ritrovata là? No, 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 non in quella classe, non con quel popò di insegnante e tutti gli insegnanti che sono passati. Chi era Gigi Proietti? Gigi Proietti maestro? Chi era? E cosa faceva? Allora, Gigi Proietti è, perché per me c'è sempre ovviamente, è una persona che ha permesso ai propri allievi di rubacchiare qua e là delle cose, ma non rubare il repertorio, di prendere da lui delle cose. Cioè il suo modo non insegnava, ti permetteva di capire attraverso quello che faceva quello che tu avresti dovuto fare, te lo permetteva, era un gesto di generosità. Assoluta. Eh, però quel suo lasciarsi guardare, lasciarsi studiare, lasciare, seguire le sue prove, noi ci siamo, abbiamo fatto indigestione di prove, di proietti, ma io non me ne sarei mai andata, perché dalle prove capivo quante volte ripeteva la stessa cosa per trovare il tempo giusto, per trovare la parola giusta, il movimento giusto e poi prima di entrare in scena, magari all'ultimo momento noi eravamo in quinta pronti per entrare e dire la micro battutina, le cose, lui ti batteva faccia, senti, quando entri, fermete in passo prima. E tu lo facevi senza sapere perché. Certo. E veniva un applauso, una risata, perché lui aveva visto una cosa magari dalla quinta legata a quello che facevi. Quindi io di lui ricordo questa enorme generosità, generosità d'animo. Sì, lo era verso noi pubblico, no? È chiaro, perché noi stavamo dall'altra parte, noi stiamo dall'altra parte ogni volta che rivediamo Gigi Proiettistante, che per lui se fosse arrivato a cent'anni, magari, cent'anni ci sarebbero sembrati pochi. Sì. No? Sì, sì, ma infatti per questo a me piace parlarne al presente. Al presente. E maestro che più che mai insegna, ancora oggi a tutti, che non a caso si chiama compagnia, una compagnia diatrale. Certo. Cioè lui ha dato il valore per tutti voi al senso di stare insieme. Certo, ma lui ci ha insegnato che il protagonismo in teatro vale solo quando sei da solo in scena, altrimenti quello che vale è appunto la compagnia, come si dice, no? Se non vince la squadra, non vince nessuno. Tutti al servizio di tutti quando si è in scena, quando si fa un lavoro anche come il tuo. Certo. Cioè vedo tutta la squadra che partecipa. E loro lo sanno benissimo, che deve vincere l'intera squadra. E l'intero gruppo. Se no non ha vinto nessuno. Allora, ha vinto Paola Tiziana Cruciani l'affetto, l'amore del pubblico, anche grazie a quei passaggi in tv, a quella televisione bellissima che voi avete fatto, bellissima, con un grande maestro, il signor Antonello Falqui. Guardate un po'. Antonello Falqui. Eccoci. Tanti auguri, buon compleanno. Grazie, grazie, grazie. Ma com'è la televisione adesso? Un macello. E se lo dice lui. E se lo dice lui, perché regia di Antonello Falqui. Oh, la ola a casa, no? Io ero dall'altra parte, sono sempre stata dall'altra parte, Paola. Che maestro, eh, Falqui? Beh, Antonello Falqui era Antonello Falqui perché è un uomo colto, preparato, curioso. Lui prima di fare le sue varietà viaggiava tutto il mondo, vedeva gli spettacoli di tutti i paesi, era una persona che leggeva tantissimo i suoi numeri, all'interno si chiamavano numeri, all'interno del varietà. Certo, certo, numero di varietà. Erano numeri raffinati, particolari. Indimenticabili. C'era il gusto, c'era il gusto. E oltretutto c'erano i copioni. Ah, parliamo dei copioni, so che sto guardando in questo momento il nostro capo progetto Dario Quarta e voi lo conoscete perché oramai io vi racconto la famiglia tutta intera, i copioni. Sì, il varietà si faceva con i copioni, ora si fa con la scaletta. Sì. Ora quando tu vai a fare un varietà ti danno una scaletta, parlo del varietà proprio. Certo che sì. Mentre tu facevi il varietà e avevi il copione intero con le parole che avrebbe detto Oreste Leonello, Milva, Eter Parisi, tu stessa, Al Paradise, con le parole delle canzoni che avrebbero cantato, con i testi degli sketch che noi avremmo fatto, in modo che tutti sapessero tutto. Poi dice, è uscita Paola Tiziana Cruciani, e c'è credo, no, c'è credo soltanto, oh, mi è scappata alla romana, soltanto perché poi c'è l'elemento che quello non si compra, non si vende, si chiama talento, il talento, con quello devi arrivare sul posto con la valigina e devi portare il talento. Sì, però è anche vero che il talento va coltivato, il talento da solo se non lo coltivi non serve a niente, perché a volte si pensa che tutto sia più facile di quello che è. Allora, non puoi sempre fare ciò che vuoi, come cantano, brrr, proprio loro, i Rolling Stones. E insomma, non puoi fare sempre quello che vuoi, i Rolling Stones, diciamo, vuol dire che quelli, insomma, Rolling Stones o Beatles, e dice, vuoi più bene a mamma o a papà? Uffa, che noia, perché era sempre così, veramente. E insomma, uno amava questi ragazzacci e amava anche gli altri che sembravano più ragazzini. Sì, sì, ma io li amavo tutti e due. Questa canzone l'amo particolarmente e per il testo e perché sono i titoli di testa di uno dei miei film preferiti, che è Il grande freddo. Il grande freddo, il grande film. E non a caso sono i titoli di testa, perché racconta esattamente quella illusione di noi cresciuti negli anni 70 che si potesse sempre fare tutto quello che si voleva. E tu, questa, come posso dire, questa non illusione, però tornando indietro alla bambina con le sopracciglia grottate, perché ha degli occhi, lei, il nostro regista Alessandro Tresa, li sta inquadrando proprio due laghi azzurri perfetti, laghi di montagna proprio perfetti, meravigliosi. Stiamo parlando di te? Sì. Ecco. Però tu tutto questo non puoi fare ciò che vuoi l'hai imparato a casa tua. Beh, sì, l'ho imparato. Parte da laggiù. Sì, sì, parte da laggiù, ovviamente, anche perché la famiglia di papà era la famiglia artista, la famiglia di mamma invece era una famiglia contadina che veniva dalla Romagna nei primi del Novecento, sono venuti in Italia, ma nonna aveva un mulino e il nonno era un cavallaro, andava alle fiere a scegliere i cavalli, quindi capisci che... Mi toglie una curiosità Paola Tiziana, la tua famiglia quando ha visto il proprio nome accanto a Gigi Proietti, con la regia di Antonello Falqui, quando ti ha visto sbocciare e diventare quercia, diventare albero, che cosa ha detto? Sono stati contenti, sono stati contenti perché comunque vedevano che non era un capriccio e vedevano anche quanto io mi impegnassi, insomma al laboratorio noi lavoravamo mattina e pomeriggio con l'ora di pausa a pranzo, ma studiavamo tutto, dalla storia del teatro al solfeggio perché... Oh ecco, aspettate un attimo, nella scheda che mi è stata preparata meravigliosa c'è anche questo. Allora, Paola Tiziana dice io avrei voluto a un certo punto fare la restauratrice, pensate che meraviglia, lei avrebbe restaurato splendidamente, dice ma non c'era il tempo, studiavate a tutte le ore sempre e studiavano il solfeggio, per chi non sappia che cosa sia il solfeggio, è una meravigliosa tortura attraverso la quale devi passare per studiare musica, perché il solfeggio? Perché Gigi appunto che ha sempre amato la musica e la musica è stata determinante, ci diceva che il copione è come uno spartito musicale, ha i suoi battere, i suoi levare, le pause, la durata di una battuta, se io ti dico qui lo senti che è andante e poi dopo diventa allegro, poi è sostenuto e poi tu li conosci i modi musicali e tu ti dico no, e se io qui ti dico c'è una piccola pausa e qui devi battere due volte, voi sapete di che sto parlando, no, perfetto, da domani farete solfeggio. Perché noi parliamo o quando siamo davanti, seduti a teatro, in realtà ascoltiamo la musica delle parole. Certo, certo. Ecco perché ci arrivano anche così. La musica, anche i respiri fanno parte della musica, quindi sapere quando devi prendere fiato, perché la battuta dopo probabilmente è una battuta lunga in cui non potrai più prendere fiato e quindi tu ne devi avere abbastanza per poter parlare fino alla fine. Quelle sono tutte cose che ti devi scrivere sul copione. Prendo fiato, un attimo, e spero di lanciare nel modo migliore la pubblicità. Ma torniamo tra un istante. L'ora solare, l'ora solare solarissima con Paola Tiziana Cruciani. Signori, applauso. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Allora, stiamo raccontando la vita di Paola Tiziana Cruciani attraverso le canzoni e le cose della vita sono importanti. Continuerò a cantare le cose della vita E se ho sbagliato a viverle Per te non è finita Ma per te che hai scelto sempre me Da santo d'assassino Vorrei che mi credessi E mi tenessi più vicino Vicino, Antonello Venditti Le cose della vita Questa è una canzone tanto bella Fanno piangere i poeti Sì Perché questa canzone è tua? Paola Tiziana Perché dopo aver scoperto De Andrè E quindi aver cominciato a seguire i cantautori Come diceva papà? A Roma c'era un piccolo localino Che si chiamava il Folk Studio Dove approdavano i cantautori romani Che erano questo signore, Antonello Venditti Che era un signore che si chiamava all'epoca Richard Cocciante Ah, Richard? All'epoca si chiamava Richard Cocciante E De Gregori E io ogni tanto andavo a sentire loro E quando ho sentito le cose della vita Ho capito che con questa frase Venditti aveva fatto la sintesi Cioè arrivavano quei cantanti Che raccontavano le cose della vita Cioè non più i temi classici, canonici, l'amore, il batticuore Le cose Ma le cose della vita Quali sono le cose della vita che contano, Paola Tiziana? Beh, innanzitutto per me il rispetto La salute, prima di tutto Vabbè, ovvio E poi il rispetto Il rispetto Punto? Il rispetto, punto Esatto Il rispetto che è fondamentale E poi anche la leggerezza Come diceva Calvino Esatto Che non è superficialità Ma è la capacità di vedere le cose dall'alto Perché a volte noi ci sentiamo troppo dentro Le cose Soffocati Immersi in una palude E invece la leggerezza Ti fa alzare E vedere la cosa dall'alto E tutto prende Un'altra forma Allora L'inquilina del piano di sopra Ma chi non vorrebbe avere Paola Tiziana Cruciani Come inquilina del piano di sopra? Immediatamente Firmiamo il contratto Ma Che cos'è l'inquilina del piano di sopra? È una commedia È un classico Della commedia europea Diciamo Perché è scritta da Pierre Chesnot Che è un francese Negli anni 70 60-70 Quindi relativamente Però è diventata subito un classico Sono in scena insieme a Pietro Longhi Per la regia di Silvio Giordani E È molto divertente Perché appunto c'è questa inquilina del piano di sopra Che ne combina un po' di tutti i colori E Il professore Che è Pietro del piano di sotto È costretto A conoscerla E a rapportarsi con lui L'unico piccolo cambiamento Che abbiamo fatto nella commedia Diciamo un aggiornamento È che parliamo di un amore Un po' agé Oh che meraviglia Esatto E allora L'inquilina del piano di sopra Teatro Manzoni di Roma Fino al 24 ottobre Paola Tiziana Cruciani Regia di Silvio Giordani Con Pietro Longhi Io so Detto così È un'affermazione grande Che Paola Tiziana Cruciani Tornerà a trovarci Ed è il modo assolutamente orribile Con il quale io Qua adesso Con voi in diretta Chiedo Tornerai a trovarci Quando vuoi Paola Paola Tiziana Cruciani Allora Allora Grazie a tutti.